Giuse, ci siamo. Ci siamo. Parliamo agli utenti che stanno guardando questo video, gli amici di YouTube in particolare, perché questo prodotto, che è la prima rivista di Cronache di Spogliatoio, che si chiama Mosaico... Titolo bellissimo, argomento ancora più bello, Diego Maradona, Leo Messi, il più grande di sempre, l'unico degno di sedersi al suo stesso tavolo, raccontati nel passato, nel presente e nel futuro di questi campioni. È stata realizzata apposta per voi che aprite questo tipo di contenuti, che ci date fiducia, i long form, lo storytelling da 40, 50, a volte Giuse scrivi cose anche più lunghe, le interviste da un'ora e mezzo, chi è abituato a vedere questi contenuti, quindi ad approfondire, a leggere, a scoprire, è nata Mosaico e noi l'abbiamo fatta apposta per voi, c'è sempre un'altra tessera da aggiungere. Un'opera d'arte come il calcio, forse come la vita addirittura, di quelle che si possono guardare da lontano e da vicino per apprezzarne i dettagli, ma anche il quadro generale, quindi cosa c'è di meglio di Messi e Maradona per iniziare? Nel nome del padre, primo numero della rivista Mosaico, dal 23 maggio in libreria, ma adesso link in descrizione per ordinarla. La notte di Capodanno la passano tutti insieme, a Cavalese, nello stesso hotel che li ospita durante il ritiro estivo. Tutti giocatori in compagnia di moglie fidanzate, più lo staff tecnico, che poi è composto da sole due persone. Osvaldo Bagnoli e Tony Lonardi, assistente e allenatore dei portieri. Nessun preparatore atletico. Al momento del brindisi di mezzanotte, imprevisto e imprevedibile, vuole dire qualcosa a Pierino Fanna. Un friulano, introverso, piccolo poeta della fascia destra. Parole pronunciate in metà stagione, molto poche. Ragazzi, il 1985 sarà il nostro anno. Nessuno sa come ribattere, il classico silenzio che vale più di mille parole. Al 31 dicembre 1984, l'Elas Verona è primo in classifica, con due punti di vantaggio sul Torino e sull'Inter, e ha subito solo quattro reti in tredici giornate. Il numero di partite perse è pari al numero di volte in cui è stata pronunciata, pubblicamente o nel chiuso dello spogliatoio, quella parola di otto lettere che inizia per scud e finisce per etto. Ovvero, zero. Non restare chiuso qui, pensiero, cantavano i Pooh. Il pensiero stupendo del Verona 1984-85 è destinato ad attraversare tutta l'Italia, da Como ad Avellino, prima di posarsi sul manto erboso del comunale di Bergamo, bagnato dalla pioggia. Il pomeriggio del 12 maggio 1985. Ha recuperato Volpati, Volpati, sul limite, la botta, Galderisi, Elkier, Elkier! Zero, nel senso di Renato Zero. È anche il cantante preferito da Giuseppe Galderisi, professione seconda punta, piccola e veloce come da definizione del dizionario calcistico. Uno dei tanti incompresi di questa squadra, scaricati con troppa fretta dagli squadroni metropolitani. Titolare da giovanissimo nella Juventus, poi offuscato da Paolo Rossi, nel 1983, Nanu Galderisi era diventato il coinquilino di Trappattoni, malinconicamente in panchina, e si era rassegnato alla cessione al Verona. Al secondo giorno di ritiro a Cavalese, Bagnoli aveva scritto sulla lavagna i nomi degli undici titolari della stagione, e quello di Galderisi non c'era. Furibondo aveva telefonato a Boniperti. E quell'anno aveva giocato 29 partite su 30, tutte da titolare, rinascendo a vita nuova e prendendosi anche la nazionale. Galderisi è il simbolo di quella seconda possibilità che tutti meritano di avere nella vita, e che la rosa del Verona 1985 coglierà la grande. Tutto inizia nell'estate del 1982, estate gloriosa per il nostro calcio. Una settimana prima che inizi il Mondiale di Spagna, il Verona torna in Serie A. Lo fa pareggiando 0-0 a Pescara, il 6 giugno, con una rosa che già mette insieme i primi tre eroi del 1985. Il portiere Claudio Garella, il libero Roberto Triccella, Il regista Antonio Di Gennaro Triccella è già capitano in pectore, la sua specialità sono le imitazioni. Tutti lo chiamano Jerry, perché il suo cavallo di battaglia è Jerry Lewis. Ma nella cena, per festeggiare la promozione, Triccella si esibisce in una splendida imitazione di Bagnoli, rievocando il memorabile intervallo di Verona-Lazio del 23 maggio precedente, con l'Ellas sotto 2-1 prima di rimontare nella ripresa. Gambe larghe, mani in tasca, sguardo torvo, lunghi silenzi e improvvisi scatti d'ira. Widolin, stai seduto. Triccella, stai zitto. E finiscila di andare avanti. E i fuochi d'artificio finali. Un minuto di improperi in milanese stretto per suonare la carica. Risate, applausi. Soprattutto un ritratto affettuoso e fedelissimo dello svaldo della Bovisa. Scriverà Gianni Mura Per capire Bagnoli bisogna aver visitato il suo quartiere, la Bovisa, quando era solo prati e fabbriche. Il padre lavorava alla Fargas, ditta di cucina a gas. Lui giocava pallone, scalzo. Abitava al 104 di via Candiani, vicino alla stazione delle ferrovie nord, quelle dei pendolari. Lascia dopo la prima media e passa a una scuola di disegno tecnico, che di fatto era già lavorare. Nel doposcuola faceva le cinture, e poi tazze di vata e raccottimo. E poi fasce elastiche in un'officina di meccanica. Lavori che insegnano cos'è la fatica e i veri sacrifici. Oggi sembrano parole provenienti da un altro pianeta, ma negli anni Ottanta gli italiani, che facevano calcio, avevano molto spesso un'estrazione di questo tipo. E di conseguenza un'umiltà e un'umanità oggi sconosciuta al 99% della popolazione calcistica. Se ne è accorto anche Domenico Volpati, che ha incontrato Bagnoli dieci anni prima di tutti i suoi compagni. In uno spogliatoio di Solbiate Arno, stagione 73-74, Serie C. La prima esperienza dello svaldo. È l'intervallo di una partita che la solbiatese non sta giocando bene. Il presidente, Danilo Carabelli, fa irruzione nello stanzino e ordina l'allenatore di cambiare posizione a un certo Tosetto. Un 38enne Bagnoli gli risponde in modo non troppo diplomatico di non impicciarsi nelle questioni tecniche. I giocatori hanno assistito alla scena in un ammirato silenzio, ma il giorno dopo Bagnoli verrà sollevato dall'incarico. Per i vent'anni successivi sarà il suo unico esonero. Dopo un esordio difficile a Como, finito con la retrocessione in B ed esperienze più incoraggiante a Rimini, Fano e Cesena, dove ha fatto la conoscenza di un tecnico delle giovanili di Belle Speranze di nome Arrigo Sacchi, la carriera di Bagnoli in Grana Verona, dove al primo colpo è subito promozione in Serie A. A costruire la squadra ci si mettono in quattro. Lui, i due soci Luciano Vicentini e Franco Di Lupo, e il direttore sportivo Franco Landri, che ogni estate puntellano l'organico coi nomi giusti, funzionali al progetto. Altri quattro incompresi, dalla Roma a Luciano Marangon, soffiato al Milan, terzino sinistro con la fama di playboy ampiamente assodata dal diretto interessato. Ho avuto forse un migliaio di donne, ma ne ho amate davvero un paio. Luigi Sacchetti, jolly di centrocampo arrivato secondo con la Fiorentina, Domenico Volpati, che era a retrocesso in Serie C con il Brescia, stava meditando il ritiro per dedicarsi agli studi di medicina, e poi, invece, Bagnoli gli ha fatto cambiare idea. E infine Pierino Fanna, ma di lui abbiamo già detto. Ed è subito quarto posto più finale di Coppa Italia persa contro la Juve. L'anno dopo, il mosaico si arricchisce di nuove tessere. Il gigante biondo Silvano Fontolan, disegnato a immagine e somiglianza dello stopper perfetto. Il suo compagno di reparto, Mauro Ferroni, che si occupa delle seconde punte. A centrocampo, il piccolo e dinamico Luciano Bruni, una specie di alter ego del Bagnoli giocatore. In attacco, come abbiamo detto, dal De Risi. Sesto posto più seconda finale di Coppa Italia persa contro la Roma. L'unico cruccio di questi due anni stupendi è la scelta sbagliata degli stranieri. Il polacco Zmuda è arrivato già rotto. Lo scozzese Joe Jordan in Serie A ha le polveri bagnate. Il brasiliano Dirceu è un funambolo con colpi strepitosi ma troppo discontinuo. Per il salto di qualità servirebbe di più. Il desiderio proibito di Bagnoli, cultore del centrocampo, è un secondo svaldo. L'argentino Ardiles, un po' in rotta col Tottenham, ma trovare la quadra è difficile. Così Landri e il nuovo direttore sportivo Emiliano Mascetti, che nonostante i folti capelli bianchi ha appena 41 anni, decidono di guardare a nord, alla Germania e al Belgio. A quella parte d'Europa piovosa dove i campioni spuntano come funghi e la loro muscolarità può risultare decisiva in Serie A. Sono gli anni del campionato più bello del mondo, in cui nel calcio italiano può succedere di tutto. Anche che una squadra di provincia come il Verona telefoni a Kaiserslautern e faccia un'offerta per Hans-Peter Briegel, difensore di marmo della nazionale tedesca. Gli appassionati italiani se lo ricordano perché l'11 luglio 1982 era stato lui ad affossare Bruno Conti alla finale mondiale Italia-Germagna, causando un rigore poi sbagliato da Cabrini. Sulla carta sarebbe un esterno sinistro, ruolo già coperto da Maragon. Toccherà a Bagnoli sbrogliare la matassa. Inoltre, il ritorno alla Roma di Iorio, in prestito all'Ellas la stagione precedente, ha lasciato scoperta una casella in attacco, dove accanto allo svelto Galderisi servirebbe proprio un attaccante forte e veloce, un vichingo assaltatore. Maschetti va a pescarlo nel campionato belga, a Lokeren, dove Preben-Helkjer Larsen segna golla raffica, nonostante uno stile di vita non esattamente impeccabile. Fuma prima e dopo e a volte anche durante le partite. Beve il giusto e non disdegna la vita notturna. Un suo ex allenatore, Han Weisweiler, un giorno lo ha strigliato. Elkjer, ti hanno visto in un night con una bionda sulle ginocchia e una bottiglia di whisky sul tavolo. E lui? Niente di più falso, era una bottiglia di vodka. Ha già 27 anni, è riduce da un ottimo europeo con la Danimarca e adesso è pronto per vincere. Ed è pronto a farlo a Verona. Dicono che il campionato 1984-85 sia passato alla storia per l'esperimento, mai più ripetuto, del sorteggio arbitrale integrale, con la figura del designatore momentaneamente soppressa per lasciar decidere il caso. In realtà è una specie di leggenda metropolitana. Si trattava di un sorteggio pilotato, con il designatore all'epoca, Alessandro D'Agostini, che divideva le 18 partite di Serie A e B in tre gruppi, da sei partite l'uno, distribuendo gli arbitri in ogni gruppo prima di procedere al sorteggio. Come sempre, la grande favorita della stagione è la Juventus campione uscente. Poi c'è la nuova Roma di Sven-Goran Eriksson, vice campione d'Europa in carica. Poi, naturalmente, le due milanesi rinnovate e ambiziose, con il barone Lidon tornato sulla panchina rossonera. E inoltre, due grandi campioni sudamericani che possono stravolgere le gerarchie, Socrate Sala Fiorentina e Diego Armando Maradona al Napoli. Non sembra esserci alcuno spazio di manovra per il Verona, che però, il 16 settembre 1984, fa capire che in questa strana stagione, caratterizzata da un vuoto di potere, può succedere di tutto. Baglioli manda in campo un 11 titolare che nella sua ossatura resisterà all'usura della stagione. In porta Claudio Garella, il portiere istrionico e irregolare, chiama a parare con tutte le parti del corpo. Il libero è Roberto Triccella, originario di Cernusco sul Naviglio, come il più grande libero italiano del momento, Gaetano Scirea. Ai suoi lati, Mauro Ferroni, ideale per tenere a bada gli attaccanti veloci. E il jolly Volpati, che oggi prende il posto dello stopper Silvano Fontolani in panchina. In questa specie di 3-5-2, che nell'idea di Baglioli è il perfetto compromesso tra il calcio all'italiana e un'aggressiva zona mista, troviamo a sinistra Luciano Maragon e a destra Pierino Fanna, che dei due è quello con i compiti più offensivi. A centrocampo dirige l'orchestra Antonio Di Gennaro, accompagnato dai cingoli del cararmato Briegel, che Bagnoli ha subito piazzato in mezzo, e dal dinamismo di Bruni. Le due punte sono un classico del bagnolismo, che ritroveremo anche al Genoa negli anni 90. Il piccoletto, Galderisi, e lo spilungone, Elkier. La prima stagionale viene un capolavoro che nemmeno nei migliori spettacoli dell'arena. Verona batte Napoli 3-1. Briegel cancella dal campo Maradona e segna anche di testa il primo gol del campionato. Raddoppia Galderisi e chiude i giochi Di Gennaro. Una settimana dopo, con lo stesso punteggio, l'Ellas si impone anche ad Ascoli, grazie anche a un controverso episodio arbitrale. L'arbitro Magni fischia una punizione di seconda. Di Gennaro la calcia ugualmente sotto la traversa e l'arbitro convalida il gol, avendo notato una deviazione del portiere corti impercettibile ai più. Il fumantino presidente marchigiano Rozzi protesta e viene espulso. Il punto esclamativo del pomeriggio di Ascoli è la prima rete di Elkier. Un gol squisitamente alla Elkier. Lancio di Briegel a campo aperto. Fuga inarrestabile, sinistro-destro e stangata sul primo palo. E la sera, alla domenica sportiva, tutti i tifosi del Verona scoprono che la classifica si è già colorata di giallo-blu. Dopo due giornate, l'Ellas è l'unica squadra a punteggio pieno. Eppure, nessuno vuole costruire castelli in aria. Una settimana dopo, per Verona Udinese, Giampiero Galeazzi chiede a Bagnoli a quanti punti per lui è fissata la quota salvezza. Bagnoli coglie la malizia della domanda, ma sta al gioco. Se andiamo avanti così ci salveremo un po' prima del tempo. Perché? Perché se andiamo avanti così facciamo i punti prima. Finisce 1-0, Galderisi su rigore. Ma tanto tutti scommettono che durerà poco. È alle porte un ciclo di quattro partite consecutive contro Inter, Juventus, Fiorentina e Roma. E tutti pensano che il Verona si sgonfierà. Ma il 7 ottobre, a San Siro, tra Inter e Verona, finisce 0-0. È il primo dei tanti pomeriggi di gloria di Claudio Garella, che si oppone ai tentativi di Rummenigge. Bredi altobelli, con svariate parti del corpo. Ma è splendido anche il collega Walter Zenga, con una grande doppia parata su Volpati ed Elkier. Un pareggio a quattro mani, come scrive il Corriere della Sera. Da questo momento, Bagnoli folgora con lo sguardo chi semplicemente osi pronunciare quella parola di otto lettere. Mette soggezione solo a pronunciarla. Eppure, passa un'altra settimana e al Bentegodi la grande Juventus cade 2-0 senza appello, punita da due ex dai canini avvelenati. Cross di Pierino Fanna e colpo di testa, udite udite, di Nanu Galderisi, con tacconi uscito a funghi al limite dell'area piccola. E poi, al minuto 81, l'apoteosi. Quello che tutto il Bentegodi identifica all'istante come il momento fondante del grande sogno. Lanciato in campo aperto, Preben Elkier vince il contrasto con un giovane Stefano Pioli e punta ad ampie falcate l'area juventina. Resiste al disperato intervento di Luciano Favero, che riesce solo a fargli volare lo scarpino destro. Ma lui calcia ugualmente a rete con il piede nudo. Altro giro, altra corsa. La prima gita stagionale a Roma si risolve in un one-man show di Claudio Garella, che a quel tempo è già stato soprannominato Garelic, da Valentino Fioravanti, cronista dell'arena dalla smisurata fantasia. Almeno sette parate decisive. Una compilation mozzafiato che salva lo 0-0 dagli attacchi furibondi di Pruzzo e compagni. E porta all'attenzione del pubblico questo portiere goffo e poco ortodosso, ma tremendamente efficace. Che proprio a Roma, sponda Lazio, aveva vissuto gli anni peggiori della sua carriera. Passa un'altra settimana e al Bente Godi cade con tutte le scarpe la Fiorentina, dove Socrates sta dando il peggio di sé, borioso e poco inclina a sacrificio. Tutto il contrario dei levrieri da corsa dell'Ellas, che chiudono il conto con un primo tempo a mille all'ora. La buona stella assiste il Verona nella complicata trasferta di Cremona, dove per una volta lo status di prima della classe impone ai gialloblu di fare la partita, cosa che non sono ancora abituati a fare. Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora, quando Galderisi sblocca il risultato su rigore. Garelic ne para un altro a Chiorri e Briegel chiude la partita in contropiede. 8 giornate su 30, oltre il 25% del campionato, sono già sufficienti per voltarsi alle spalle e scoprire di aver fatto il vuoto. 14 punti, 4 in più delle milanesi, 6 più della Juve, il doppio della Roma, oltre il doppio del Napoli di Maradona in zona retrocessione. Sembra uno scherzo, un copione da film, proprio nelle settimane in cui al cinema tutta l'Italia ride con l'allenatore nel pallone, in cui Lino Banfi, o Ronzo Canà, prende in giro presidenti, allenatori e calciatori di tutta la Serie A. Il 18 novembre, per la prima volta, il Verona non vince in casa. Fa la conoscenza dell'altra grande provinciale terribile di questi anni, la rampante Sampdoria di Vialli, ma non di Mancini, che è quel giorno infortunato. È il giorno in cui Bagnoli scopre che il Verona ha 11 grandi giocatori, ma deve camminare sulle uova, sperando che non se ne rompa mai nessuna. Basta un infortunio di Gennaro e un acciacco a Elkier, tornato indolenzito dalla partita della Nazionale, per non andare oltre lo 0-0. E quando il Danesone marca visita la settimana dopo al Comunale contro il Toro, i giornali intonano giù la marcia funebre. Il Verona a Torino può perdere la testa, titola, o forse auspica, il Corriere della Sera. E invece ne viene fuori una partita splendida, santificata dall'avvocato Agnelli che è voluto rimanere apposta a Torino, invece che volare a Udine per seguire la Juventus. È la supera partita che ho visto quest'anno. Io dico che la Juventus e i Juventini si devono anche abituare a perdere qualche volta. Il Torino è secondo in classifica, sembra galvanizzato dal ritorno in panchina di Gigi Radice, l'uomo dell'ultimo scudetto del 76. A menare le danze c'è un brasiliano geniale, Leo Junior, che colpisce il palo su punizione. Se avete già perso il conto dei legni colpiti dagli avversari del Verona in questa stagione, sappiate che ne arriveranno molti altri. Invece Lellas è precisissimo. Passa in vantaggio con una sassata di Briegel da fuori area. Subisce il pareggio da Beppe Dossena. Poi passa nella ripresa con un magnifico contropiede orchestrato da Galderisi e concluso da Marangon. Il presidente Chiampan, seduto in tribuna accanto a Danielli, gli indica orgogliosi i suoi gioielli. Briegel e Triciella, sogni proibiti per gli squadroni del nord. E poi è ancora dea bendata. Palo interno di Sclosa a Garella battuto. E adesso i giornalisti chiedono a Bagnoli se ha intenzione di iniziare a pronunciare quella parola. Prematuro, a primavera vedremo. Anzi, sembra più ombroso del solito. Vi dico solo che per vincere lo scudetto non basta la squadra, ci vogliono altre cose. A cosa mi riferisco? La partita l'avete vista tutti. Nel mirino c'è l'arbitro Bergamo, accusato di atteggiamento casalingo anche dai giocatori. Quelli picchiavano come maledetti, si lamenta Galderisi. Ma l'arbitro ha munito solo me. Nella Serie A degli anni Ottanta, ogni domenica c'è una partitissima. Via il Torino tocca al Milan, che strappa lo 0-0 al Bentegodi sotto il diluvio. Agarella non fa i gol nemmeno con le cannonate. Se ne accorge anche la Lazio, la sua odiata Lazio, con 70.000 tifosi che lo fischiano. Una Lazio piuttosto male in arnese, battuta il 16 dicembre a domicilio dall'unico Verona tutto italiano della stagione. Senza Briegel né Elkier. Eppure, capace di passare 1-0 all'Olimpico con un tiraccio di Galderisi, deviato in rete dal difensore Podavini. A fine partita, Capitano Triccella si avvicina ai giornalisti e con i suoi modi educati, con il suo tono di voce sottile, una cosa ci tiene a dirla. Ci state preparando il funerale da due mesi, ma dovete rimandarlo tutte le volte. Senza nemmeno Ferroni, infortunato al menisco, a due giorni da Natale il Verona ottiene a Como un altro clean sheet. Lo 0-0 si spiega anche con un nuovo malanno di Elkier, che fa spesso la spola tra Italia e Danimarca per curarsi, e al Verona la cosa non fa molto piacere. Ma il Verona finisce ugualmente il 1984 solo, in testa alla classifica, perché questa Serie A è come una gara di ciclismo molto tattica, in cui nessuno dei big si decide a scattare per andare a riprendere l'outsider in fuga imprevista. Così, l'equilibrio resiste anche all'inizio del 1985, quando il Verona frena in casa contro l'Atalanta, 1-1, nonostante il primo gol stagionale di Luciano Bruni, pareggiato nel finale da Pacione a causa di un mezzo errore di garella. Nelle prime due settimane dell'anno nuovo, l'Italia conosce un'ondata di freddo senza precedenti, con metri di neve che si abbattono su tutta la penisola. A Milano il ghiaccio fa crollare il soffitto del nuovissimo Palasport, inaugurato da meno di dieci anni. Ma il gelo arriva anche al sud, per esempio da Vellino, dove dopo tre giorni e tre notti di neve sembra impossibile giocare a calcio. Invece, il Partegno impone la sua spietata legge, anche in versione imbiancata, con i tifosi irpini che si prodigano a spalare il terreno di gioco e il Verona che perde per la prima volta, proprio all'imbrunire del girone d'andata. La sconfitta è meritata perché l'Avellino gioca una gran partita, impreziosita dalla perla da fuori area di Angelino Colombo, generoso mediano che farà fortuna con il Milan di Sacchi e che, nell'esagerazione giornalistica dell'inviato della Domenica Sportiva, addirittura diventa il Rummenig della Brianza. È il momento più delicato della stagione dell'Ellas, quando le certezze iniziano a vacillare. L'Inter rosicchia un punto e il 20 gennaio, prima di ritorno, perfeziona l'aggancio battendo 1-0 l'Atalanta, mentre il Verona rende visita a Maradona. Napoli-Verona 0-0 vive sul duello tra giganti Maradona-Briegel, molto più equilibrato che all'andata, e su un nuovo episodio dello show itinerante di Garelic, superlativo sulla punizione di Diego e miracoloso su un tiro di Dalfiume. Dopo tre mesi, però, Bagnoli si è stufato di sentire ridurre il Verona a una serie di colpi di fortuna e miracoli del portiere. Tanto da litigare in diretta alla radio con Enrico Ameri, che si era soffermato troppo a lungo sulle parate di Garella. A ogni modo, il Verona non è più primo da solo. È stata una bella favola e, come tutte le favole, adesso è finita. Resistono nel bunker solo i veronesi più ottimisti, che stampano alcuni volantini polemici contro il resto d'Italia, specialmente i giornali di Roma e Milano, che fanno il tifo per il sorpasso di qualche squadra più blasonata, di quelle che fanno vendere più copie. Bagnoli decide che la misura è colma e che d'ora in avanti si concederà solo a radio e televisioni. Non è po' più di veder distorcere le sue dichiarazioni. Signori, con voi non parlo. Avete scritto che sono molto stressato e nervoso. E allora ho pregato mia moglie di accompagnarmi in montagna per una bella cura disintossicante. Grazie e arrivederci. Intanto, la squadra trasforma il nervosismo in energia cinetica e domina l'Ascoli per 2-0, nella grande giornata di Gigi Sacchetti, che prima spacca la traversa da fuori area, gol di Galderisi sulla respinta, e poi segna finalmente il suo unico gol stagionale. L'Inter rallenta sul campaccio di Avellino, 0-0, e l'Ellas è di nuovo in testa da solo. Appena in tempo per la partita dell'anno. Il 10 febbraio 1985, al Friuli di Udine, non è in programma solamente il derby del Triveneto. Non si gioca più per le posizioni di rincalzo, anche se il trio Brasil, che nei piani di Lamberto Mazza doveva fare grande l'udinese, quello composto da Zico, Edigno e Vinicio in panchina, non sta dando i risultati sperati e la squadra allangue in zona retrocessione. L'orgoglio dell'operoso nord-est adesso si chiama Elas Verona, la squadra di provincia che porta sulla maglia il nome della Canon, multinazionale giapponese e leader nel settore delle fotocamere e delle stampanti, con una sede proprio a Verona, dove lavora come impiegato all'import-export un futuro allenatore di belle speranze, Alberto Malesani, destinato a lasciare una traccia nel calcio veronese. C'è un'area strana quel giorno a Udine. Il campo è pesante, premessa ideale per una partita bloccata. Altro che, dopo 20 minuti sul tabellone c'è scritto Udinese Verona 0-3. Briegel, Galderisi, Elker. Lezione di contropiede contro un'udinese presuntuosa. Ma quel giorno la razionalità decide di prendersi una domenica libera, perché tra il quarantesimo e il sessantesimo l'udinese ne segna altrettanti. Ma la sequenza dei gol è più veloce dell'ebiro dei giornalisti. Massimo Mauro non ha ancora finito di gustarsi il bagno di folla per il 3-3, che Elker sorprende la sgangherata difesa friulana e inchioda a Brini, per la quarta volta, seguito a stretto giro di posta da Briegel, sempre i loro due, che fissa il risultato su un indimenticabile 3-5. Una volta all'anno è lecito impazzire, dicevano i latini sui giorni del carnevale, e il 10 febbraio era proprio la domenica di carnevale. Evidentemente la sbornia del trionfo è difficile da smaltire, visto che una settimana dopo metà squadra viene messa a KO dall'influenza tra il mercoledì e la domenica. Forse l'untore è stato Fanna, il primo a sentirsi male in ritiro il martedì, nel ritiro di Santa Margherita Ligure, dove il Verona stava preparando la partita di Coppa Italia col Genoa. Poi si sono ammalati Marangon, Galderisi, Elker, Briegel e Dulcis in fundo il portiere di riserva Spuri, che la domenica non va nemmeno in panchina pur regolamente inserito in distinta. A meno di emergenze ha preferito rimanere al caldo in spogliatoio. Piccolo problema, la settimana dell'influenza coincide con la partita dell'anno. Niente meno che Verona-Inter. L'Inter è decisamente l'avversaria più temuta dallo svaldo, se non altro per motivi di scaramanzia. Il Verona l'ha battuta appena due volte su 27 precedenti in Serie A, e mai nella gestione Bagnoli. 45.000 spettatori riempono le tribune del Bentegodi in una bella domenica di sole. L'arbitro è anche lui veneto, Luigi Agnolin, da Bassano del Grappa. Eppure, tutt'altro che amichevole verso i suoi corregionali, cui nega due possibili rigori per falli di mano. E così segna l'Inter, con una fiondata di altobelli dal limite dell'area. E nell'intervallo della diciannovesima giornata, per la prima volta in stagione, l'Ellas non è più primo in classifica. Non si sa dove questa squadra trovi la forza per riportarsi a galla. Forse nei litri di tè caldo mandati giù negli spogliatoi dai tanti giocatori infreddoliti, acciaccati, tossicchianti. E proprio uno di loro, Briegel, il più tosto di tutti, corregge di testa in rete la sponda di Di Gennaro e riacciuffa il pareggio. Esattamente come aveva predetto lui prima della partita ai microfoni di Galeazzi. Una settimana dopo, al comunale di Torino il Verona vive i 5 minuti che valgono una stagione e forse una vita intera. Il pomeriggio vive sul filo delle onde medie, Torino-Milano, dove l'Inter, seconda in classifica, riceve il Torino terzo. La Juventus è settima, apparentemente fuori causa, ma nessuno crede che si scanserà. E di fatti va in scena l'ennesimo episodio del garella show. Mani, piedi, stinchi e cosce sotto lo sguardo livido di Boniperti che, come sempre, lasciando lo stadio all'intervallo, fa in tempo a dire che il Verona è una squadra molto simpatica, che fa molto gioco. Con il tono risentito di chi proprio non se l'aspettava che la stagione prendesse questa piega. A un quarto d'ora dalla fine, Massimo Briaschi segnerebbe anche il gol del vantaggio juventino, ma due minuti dopo l'Ellas, irriducibile, riprende anche questa, con uno splendido gol da fuori area. Un folgore sotto l'incrocio di Antonio Di Gennaro. E un minuto dopo, a San Siro, Spillo Altobelli calcia fuori il rigore della vittoria dell'Inter e del possibile aggancio. Dieci giornate alla fine, due scontri diretti lasciati alle spalle. Sono le settimane in cui, ispirato da questa lunga corsa a scudetto, Nanu Galderisi sforna la sua prima e unica fatica musicale. Sto correndo, a metà tra Renato Zero e Sotto la pioggia di Antonello Venditti, la canzone porta fortuna dell'Italia al Mondiale 82. E il Verona salta anche l'ostacolo Roma, resistendo alla qualità tecnica dei giallorossi per un'ora e poi uscendo alla distanza, di gambe, di cuore e di cervello con una zampata di Elkier, che al bentegodi non segnava dal gol a piedescalso alla Juventus. Qualche settimana dopo, l'associazione allenatori organizza un convegno sulla tattica nel calcio moderno. Sono presenti tutti i tecnici di Serie A, compreso Bagnoli, schivo come sempre in penultima fila. Ma è pur sempre l'allenatore primo in classifica e allora è quasi costretto a salire sul palco, invitato dal conduttore Marino Bartoletti, per dare il suo punto di vista. Ecco, adesso mi tocca fare la figura dello stupido perché non c'è niente da spiegare. Dico solo una cosa, il Verona gioca un calcio tradizionale. Che noi facciamo pressing lo leggo sui giornali. In campo non l'ho mai notato. Scusate, ma mi chiedete una ricetta che non ho. In realtà non è proprio così, anzi non è affatto così. Bagnoli gioca al gioco di tutti gli allenatori modesti. Privarsi di ogni merito per tenere al centro del palco i giocatori. Ma il Verona gioca un calcio moderno e veloce, scandito dalla regia di Di Gennaro e dai movimenti senza palla di Fanna, che libera lo spazio per le avanzate di Tricella, che detta ai tempi delle fulminanti ripartenze di Elkier e Galderisi. Il mistero Verona, un mix di allegria e serietà, applicazione e un pizzico di fortuna, resiste Beffardo anche a Firenze, dove Di Gennaro torna profeta in patria con la fascia da capitano al braccio, in uno dei rari pomeriggi ispirati dell'annata di Socrates. Il copione è quello di sempre lontano dal Bentegodi. Difesa, sofferenza, i balzi di Garella contro ogni legge fisica. Il primo gol in campionato di Silvano Fontolan annulla il vantaggio di Monelli, prima della doppietta di Galderisi, con in mezzo un rigore calciato alle stelle da passarella. Il catalogo è questo. Opportunismo, le capacità di sfruttare le occasioni, il regolare allineamento dei pianeti. V per Vittoria, V per Verona. V come Vinicio Verza, il numero 7 del Milan, che nel derby sfrutta un errore di Bergomi per segnare il gol del 2-2, che costa all'Inter un altro punto pesantissimo. Le uniche nuvole nel calcio sopra Verona riguardano la permanenza di Bagnoli anche nella prossima stagione, ma verranno spazzate via dallo stesso Svaldo nel giro di due settimane, appena in tempo per il rush finale. Adesso si può dire, come mormora di Gennaro dopo la vittoria di Firenze. Solo noi possiamo buttare via questo scudetto. Non succederà. Il 3-0 alla Cremonese vale il più 5 sull'Inter battuta dalla Juve e il successivo pareggio in casa della Sampdoria addirittura il più 6 su un gruppone di 5 squadre al secondo posto. Poi il Verona paga i suoi debiti con la buona sorte tutti insieme, in un'unica soluzione. Il 14 aprile in casa contro il Torino. Calderisi sbaglia un rigore al quinto minuto, la prima di tante occasioni per sbloccare il risultato. E invece il primo a segnare è Aldo Serena, con una magnifica rovesciata applaudita anche da Garella. Dulcis in fundo, Calderisi timbra un palo a tempo scaduto. Si rifanno sotto Juventus, Sampdoria, Torino e Inter, tutte a quattro punti. Tutte appollagliate sul Trespolo in vista dell'ultimo iceberg che potrebbe affondare l'Ellas. Milan-Verona, 14 aprile 1985. A San Siro il Verona non ha mai vinto e mai vincerà. Nel momento in cui pronunciamo queste parole, l'Ellas ha un bilancio di 0 vittorie, 24 pareggi e 38 sconfitte alla scala del calcio. Ma ci sono pareggi che valgono doppio, forse triplo, come lo 0-0 santificato già al terzo minuto da Claudio Garella, che sembra scavalcato dal colpo di testa di Eatley, ma con uno scatto di reni riesce a sfiorare la palla, farla carambolare sul palo e poi ritrovarsela tra le braccia. È l'ultimo tornante che mancava, per ammissione dello stesso Garella. Se il Verona si fosse ritrovato sotto di un gol, chissà come sarebbe andata a finire. Senza Briegel e Fontolan, i due più forti di testa della squadra, il Verona soffre terribilmente i centimetri di Attila Eatley. Tanto che Garella è costretta ad abbandonare i pali molto più del solito per dare una mano alla contraerea. Ma lo 0-0 tiene fino al novantesimo, e allora ci siamo davvero. Anche se, dice Bagnoli, citando un famoso modo di dire di Maurizio Costanzo, non si sa mai cosa c'è dietro l'angolo. Dietro l'angolo c'è il primo sospiratissimo gol di Pierino Fan, invisibile ai tifosi italiani nella domenica dello sciopero di radio, giornali e televisioni. Lo vedono solo al Bentegodi, Verona 1-Lazio 0. 4 punti di vantaggio sul Torino a tre giornate dalla fine. Il tricolore potrebbe arrivare già la settimana dopo, ma il Verona si mette una mano sul cuore. Si ricorda della sua natura di provinciale e accetta la misericordiosa divisione della posta in paglio con il Como, bisognoso del punticino. Tanto c'è solo da aspettare una settimana in più, e l'attesa rende più dolce il sapore della vittoria. Poco oltre il lago di Garda, nella trasferta più comoda del campionato, che si trasforma in gita. 200 pullman e 2000 macchine di veronesi in trasferta a Bergamo, molti dei quali con bottiglie da marone e valpolicella per allietare il viaggio. A Verona è una domenica elettorale, verrà rieletto il sindaco in carica Gabriele Sboarina, ma i seggi rimangono vuoti dalle 16 alle 18, quando c'è solo l'Ellas. In piazza Bra, tutti intorno all'arena, 5.000 persone ascoltano sotto la pioggia la radiocronaca di Roberto Puliero, di Radio Adige, ed esplodono alle 17.06, al momento del pareggio di Elkjer. Saranno il doppio alle 17.45, al triplice fischio dell'arbitro Boschi di Parma. Per poi inondare tutte le arterie della città verso via Mazzini e Piazza delle Erbe. Tutti con queste strane bandiere tricolore con su stampato il numero 1. Così lontano dai successi in doppia cifra di Juve, Inter o Milan. Così speciale, così unico. Non succederà più. Quello dell'Ellas Verona 84-85 è l'ultimo scudetto provinciale nel senso letterale del termine, vinto in una città che non è capoluogo di regione. Negli anni 90 ci proverà lungo il Parma, ma in vano. Sui titoli di coda scorre l'incredibile compostezza di Bagnoli, che 30 secondi prima del fischio viene abbracciato da Galderisi, che gli chiede all'orecchio se ora se la sente di dire quella famosa parola. Lo Svaldo non ha il coraggio di rispondere fino al triplice fischio. A novantesimo minuto Paolo Valenti elogia. L'umanità di questo scudetto, di una squadra che è sempre rimasta modesta in ogni momento della sua annata. Nel momento della gioia anche Verona prova a scatenarsi, a diventare un po' sfrenata e godereccia, ad abbandonarsi al baccanale. In fondo è una città ricca, benestante, che sa godersi la vita. Città d'arte, di grande musica, di comici come i Gatti di Viccolo Miracoli, capitanati da Gerry Calà. Ma c'è poco da fare. La faccia dell'Ellas, campione d'Italia, rimarrà sempre quella del suo allenatore. Ombroso fino al parossismo, tanto da guadagnarsi il soprannome di Schopenhauer da uno dei suoi maggiori estimatori, Gianni Brera. E ci pare giusto concludere con le parole che lo stesso Svaldo Bagnoli consegna al Corriere della Sera, la sera del giorno più bello della sua carriera. Favola o realtà? Me lo sto chiedendo anch'io, mentre sto vivendo un momento eccezionale e mi sento felice, seppur prigioniero di qualcosa che supera ogni immaginazione. Qualcosa di veramente ed esageratamente, almeno per il mio carattere, favoloso. Se riuscirò a uscire dai mille e mille abbracci, dalle espressioni di gioia di una città, di una provincia e di un mondo che sta dentro e intorno, vicino o lontano da questa Verona in festa, allora potrò riordinare le idee, rifare mentalmente una strada che è quella percorsa da altri allenatori, magari i più bravi di me, che non hanno avuto la mia stessa fortuna. Io so per esperienza che quando andrà meno bene, i tifosi che oggi esultano saranno pronti a contestarci. Adesso esco dallo stadio fra gli applausi, giro in città indicato a vista, elogiato da tutti, ma non dimentico la porticina di servizio del Bentegodi o di un altro stadio. Un giorno mi aiuterà a evitare la folla che aspetta fuori per contestarmi. Grazie a tutti.